Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta a nu alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono uova, farina di tipo doppio zero, zucchero, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, cacao amaro, lievito, vanillina, sale e una dose di crema pasticcera alla Nutella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero, la vanillina, lo yogurt, il cacao amaro, la farina, l'olio, un pizzico di sale e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 26 cm di diametro. Mettiamo adesso la crema pasticcera alla Nutella a cucchiagliate. cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta nua alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!